Una nuova segnalazione da parte di un cittadino ci mette di fronte all'ennesimo caso di carente segnaletica stradale. Anzi, in questo caso la segnaletica c'è ma non si vede affatto. Siamo in via della scogliera a Monte Sanquirico dove le foto del nostro telespettatore mostrano chiaramente come il cartello che indica il senso unico in direzione nord-sud della strada sia visibile solo dopo aver percorso parecchi metri di strada e che un secondo cartello sia stato posizionato poco dopo la curva ma ben nascosto dagli alberi e risulti perciò molto difficile ad un conducente intento a guidare notarlo. Tanto che il nostro indignato spettatore paragona il lavoro fatto sulla segnaletica con il gioco a guzzare la vista di un popolare settiminale di enigmistica. E come si può vedere da una delle foto non è raro che qualcuno rimanga ingannato dalla segnaletica inadeguata. Il telespettatore ci dice inoltre di sentirsi offeso e deriso da cittadino che paga regolarmente le tasse nel vedere lavori pubblici eseguiti in tale modo.